Un clima ormai tropicale ha causato ieri un allagamento alla stazione ferroviaria di Eboli, che non ha provocato gravi danni ma molti disagi. 20 cm di acqua sul fondo stradale hanno causato il blocco stradale e sono andate in tilte le gaditoie di scolo della stazione. Intanto l'assessore Ginetti esulta dal suo profilo Facebook perché la città, rispetto ad altre, ha berretto al nubifragio. Grazie alla manutenzione fatta nei mesi scorsi, ha detto, Eboli ha avuto pochissimi disagi. L'amministrazione metterà in campo un piano di manutenzione straordinaria strutturale nei punti critici, come per esempio la stazione. Stessa condizione anche nelle zone industriali delle due città, Eboli e Battipaia, divenute impraticabili. A Battipaia si è allagato anche il centro urbano, via Mazzini in particolar modo. In periferia non è andata meglio, la Versana è andata completamente in tilt.